Siamo qui con Daniele e vorremmo sapere perché è qui con noi. Bravo, questo ragazzo merita un applauso col cuore, ciao carissimo, ciao, complimenti per l'energia, per la persona che sei. Allora parliamo musicalmente, devo dire la verità che io conosco il vostro nome ma non conosco la vostra realtà, parlane come vuoi tanto. Ok, la nostra realtà è fatta di intromissioni oniriche, di misticismo e di ricerca della felicità, interiore e anche esteriore per tutti i nostri cari e la popolazione italiana e non solo. Facciamo musica, scusami, il tuo sguardo mi ha suggerito questo, facciamo musica proprio per armonizzare la gente e spingerla a essere felice. Quindi lui ha studiato armonia attraverso l'emozione. Esatto, l'importante è trasmettere un'emozione che unisca. Il tuo strumento qual è? Chitarra e voce. Mi hanno detto che tu sei il leader, cosa vuol dire essere leader? Leader vuol dire essere reggitore della situazione, quindi anche responsabile, nonché fautore di scritture di testi e di musica. Quindi, insomma, una figura completa, un po' il capofamiglia. Ok, diciamo così, da dove arrivate? Arriviamo dalla prima cintura torinese, un po' Beinasco e un po' Santena. La vostra band da quanti anni e per quanti anni vorrebbe ancora continuare? Allora, parlando di date, cercheremo di spingerci oltre il 21 dicembre 2012 sicuramente e innanzitutto suoniamo da diversi anni con varie formazioni, però questa formazione di oggi che avete potuto ammirare è molto fresca, è un impasto fresco che risale soltanto all'estate scorsa. Ho dovuto mettere il maglioncino, ho visto la vostra freschezza. Ciao. Grazie, è stato un piacere. Musica Maestro si chiama? Musica Maestro, saluti a tutti voi. Punto TV. Musica Maestro punto TV, vi salutiamo e vi aspettiamo connessi. Numerosi. Numerosissimi. Numerosissimi. Numerosi. Numerosi.